Allora, siamo a Brescia, davanti alla frazione, adesso dovremo prendere il treno che ci porterà a Napoli, Italo. Allora, siamo a Brescia, davanti alla frazione, adesso dovremo prendere il treno che ci porterà a Napoli. Allora, siamo a Brescia. Allora, siamo a Brescia. Allora, siamo a Brescia, davanti alla frazione, adesso dovremo prendere il treno che ci porterà a Napoli. Allora, siamo a Brescia. 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 Questo lo metto all'ingresso di casa mia, che è qualcosa di spettacolare, vedete? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.